Più di 70 bambini si sono divertiti alla Castellina nelle tre settimane di Summer Camp chiamati insieme al Monza organizzati dalla nuova Sondrio Calcio con la società Brianzola di Serie A. Dal 12 al 30 giugno il campo sintetico ha ospitato i piccoli calciatori che si sono divertiti agli ordini degli allenatori delle giovanili del Monza. La soddisfazione arriva innanzitutto dai ragazzi che si sono divertiti e hanno fatto tre settimane veramente belle ma poi dal fatto che comunque avendo avuto la supervisione del Monza il Monza ci ha fatto i complimenti e non per ultimo con gran gioia ho ricevuto anche un messaggio del dottor Gagliani che appunto era molto felice di questa collaborazione e dunque questo fa veramente piacere perché vuol dire che stiamo crescendo in maniera corretta. I piccoli atleti hanno potuto concentrarsi sull'apprendimento del calcio con un programma specializzato. Abbiamo lavorato su vari aspetti tecnici, ogni giorno avevamo un obiettivo diverso a partire dalla trasmissione palla, guida finte dribbling, tiro in porta, ecco ogni giorno i ragazzi avevano un obiettivo da tenere sempre la mente, da tenere sempre presente e devo dire la verità che hanno lavorato in maniera intensa e in maniera molto performante. Sono stati bravi.